La Notte Europea dei Ricercatori, programma venerdì 29 settembre al campus universitario di Chieti. Dal primo pomeriggio a notte inoltrata studenti scolareschi e l'intera comunità del territorio potranno prendere parte alla notte universitaria più lunga dell'anno, in cui i ricercatori e docenti della D'Annunzio metteranno a disposizione la conoscenza sviluppata e maturata nel mondo accademico attraverso esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre, visite guidate, conferenze e seminari divulgativi alternati a spettacoli, concerti, oltre a momenti di puro svago e aggregazione. One World, One Health, One Thousand Cultures è il tema dell'edizione 2023. Non è un titolo in inglese ma internazionale, così il rettore dell'Università d'Annunzio, Liborio Stupie. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è ormai una lingua comune che è quella che noi troviamo quando viaggiamo, quando andiamo negli aeroporti, che dobbiamo conoscere per poter essere cittadini del mondo. Quindi il senso della internazionalizzazione è quello di proiettare l'Annunzio al di fuori dei propri confini e abituare i nostri ragazzi che abbiamo un solo mondo e dobbiamo essere in grado di muoverci in tutto questo mondo con le competenze culturali e anche linguistiche necessarie. Qual è il tema conduttore? Il tema conduttore è l'unicità del mondo in cui viviamo ma la risposta attraverso le mille culture cioè il dialogo tra chi la pensa in modo diverso. Questa è una sfida senza dubbio ambiziosa da parte dell'Università? Sì, ma un'Università deve essere ambiziosa. Noi vogliamo che i nostri studenti vengano con l'orgoglio di studiare in un'Università che ha il privilegio di insistere su due splendide città una più a vocazione culturale, una più a vocazione imprenditoriale e in una bellissima regione, forse la regione italiana che ha il rapporto costo-qualità della vita migliore in assoluto. Un programma particolarmente ricco direi, no? Sì, particolarmente ricco di eventi sia nelle aule plenarie che sia nelle aule di tutto l'Ateneo del campus di Chieti. Ci sono seminari, laboratori, talk, tavole rotonde e ci sono anche degli eventi, ad esempio uno, mi viene da citare uno che è un premio strega che verrà nell'aula a magna di lettere e verrà invitata alla famiglia del premio strega di quest'anno. Uno scambio, possiamo dire così, no? Virtuoso tra docenti e discenti e quindi studenti? Assolutamente sì e soprattutto a questo aggiungerei sostenibilità perché noi tutto quello che stiamo facendo oggi è in realtà veramente in linea con la sostenibilità ma proprio per un'esigenza, non perché ci viene detto dall'Europa o ci viene consigliato, ma perché oggi se non c'è sostenibilità in un progetto, in un piano, in quello che andiamo a fare è chiaro che poi l'investimento di un'università diventa non un investimento ma anzi forse non un buon affare.